Interlagos. Tornanti e curve veloci, insieme a variazioni altimetriche, rendono questa pista una delle più tecniche del mondiale. Curva 4. Staccata e inserimento secco a sinistra. Curve 6 e 7 cieche con doppia piega a destra. Curva 14 la più lenta del circuito. Curva 4 e 5. Il pilota sfrutta la staccata per aumentare l'aderenza dei pneumatici anteriori. Ciò determina migliore direzionalità e precisione di guida della monoposto da gestire in fase di inserimento curva. Curve 6 e 7. Salite e variazioni del piano stradale rendono critico l'appoggio della monoposto. I pneumatici contribuiscono a mantenere l'aderenza ottimale, assicurando al pilota una percorrenza di curva più sicura ed efficace. Leggera inclinazione della pista che aiuta la monoposto a raggiungere il punto di corte. Impegnativa l'accelerazione in uscita che stressa il battistrada per effetto dei pattinamenti generati dall'erogazione della coppia motrice. Asfalto abrasivo. Curvone in appoggio ed alto carico aerodinamico. Hard e media sono le opzioni portate da Pirelli per garantire prestazioni, grip e sicurezza ed affrontare al meglio le caratteristiche di questo circuito.